Riprendiamo, visto i casi che sono successi di decessi, ben 5 almeno, poi ci si è giunta ieri quella ragazza che ha causato un aborto e con una conseguente emoragia, ci ha lasciato le penne, che cosa succede, che cosa sta succedendo, quindi riprendiamo anche il discorso di come portare avanti la gravidanza e non considerare la gravidanza come un momento normale, certo è normale, però un normale con molte più attenzioni, dove uno non si può disfare a mangiare tutte le schifezze di questo mondo.